Buongiorno, buongiorno a tutti ragazzi, ben ritrovati in questo nuovo video, come al solito per la vigilia di campionato ci mettiamo a ragionare su quelle che sono le informazioni che ci dà l'allenatore dell'Eventus, quindi Massimiliano Allegri, e oggi, eh beh, ragazzi, oggi ci ha dato delle informazioni succulente, succulente, perché va a confermare anche una trattativa di calcio mercato, quella che vede McKennie partire, lasciare l'Italia e accasarsi in Premier League. Probabilmente al list, come avevamo raccontato nei giorni scorsi. Prima di tutto, però, io vi ricordo di scaricare l'applicazione di Numero 10. Trovate il link qui sotto in descrizione, è completamente gratuita. Perché vi consiglio questo? Perché sto lavorando e collaborando con Numero 10 da un po' di tempo. Sto scrivendo articoli per loro, per diventare giornalista sportivo, e non solo. Sto creando contenuti esclusivi mese per mese. Domani, infatti, subito dopo la partita tra Juventus e Monza, ci sarà un contenuto, un post partita, che uscirà in esclusiva sul Numero 10. Vi invito a scaricare l'applicazione per andare a vedere anche quel contenuto che non troverete qui sul canale, dove uscirà comunque dopo la partita. Ovviamente, un altro video per commentare quello che abbiamo visto, quello che vedremo, quello che vedremo nella giornata di domani. Vado a rileggervi un pochino il resoconto di quella che è stata la conferenza di Massimiliano Allegri, che anche in questo caso, così come quella con l'Atalanta, mi è piaciuta. Mi è piaciuta perché, vabbè, ve lo spiegherò vita natural durante. Arriviamo, dopo due partite, dove abbiamo fatto una bella prestazione ma raccolto soltanto un punto. In realtà quella di Napoli un po' meno, quella con l'Atalanta decisamente sì, è per un po' meno, intendo decisamente meno. Nelle ultime due, infatti, abbiamo subito 8 gol e fatto un punto. Dobbiamo migliorare. Nelle ultime tre abbiamo fatto 6 gol subendo ne 9, compresa la Coppa Italia. Siamo lontani dagli standard precedenti. Domani affrontiamo il Monza, che gioca bene. Contro noi ha fatto buone partite. Sarà importante, quindi, tornare alla vittoria. Eh sì, è un po' che non si vince, in Serie A, dalla partita con l'Udinese, quindi da inizio gennaio. È ora di ritrovare anche un po' di serenità, lato campo, perché extracampo, sappiamo, stiamo respirando un'area decisamente pesante. Ho parlato con Elkan, ma non del fatto che si possa rinnovare il contratto. Mi ha soltanto romandato come sta andando la squadra. Al momento, al resto in questo momento qui, puntini puntini di sospensione, occorre solo rimanere concentrati sul campionato senza perdercelo di vista. Ci sono quattro mesi con obiettivi da raggiungere. Giustamente Allegri non va a parlare del suo futuro, anche perché ho già discusso quello che secondo me sarà il futuro della nottezza della Juventus e anche della Juventus stessa. Trovate il video qui sopra nelle schede. Vlaovic e Pogba saranno a disposizione. Chiesa no perché ha un affaticamento al flessore della gamba operata. Tra l'altro Allegri dice qualcosa di normale, esattamente, dopo tanti mesi fermo qualche noia muscolare è giustificata. Tra l'altro si parla di un affaticamento e non di un infortunio. È roba di due giorni, giovedì sarà a disposizione con la lastra e speriamo che possa essere effettivamente così, perché poi comunque abbiamo visto più di una volta che un affaticamento possa effettivamente trasformarsi in realtà in infortunio. Quadrado ha un problema, all'erbo sciatico, è infiammato e rientrerà con la lastra. Mannaggia, mannaggia, appena tornato Quadrado, il nervo sciatico. Bonucci è in ritardo, di condizione, e invece De Sciglio è a disposizione, così come Vlaovic e Pogba. E attenzione perché la prossima domanda va a intrecciarsi un po' anche con la figura di De Sciglio, perché Allegri dice domani McKennie assolutamente non è convocato. La società ha già trovato l'accordo con la prossima squadra di Weston, è inutile portarlo con noi. E si va a intrecciare anche con altre domande che faranno tra poco. C'è da dire però una cosa che secondo me è giusto ribadire, ora vado a prendere la classifica di Premier League. Ne voglio veramente discutere insieme a voi qualcosa che secondo me è giusto discutere, perché probabilmente McKennie andrà al list. Si parla di un prestito, a quanto ho capito, con un milione e mezzo più obbligo barra diritto di riscatto intorno ai 30-35. Quindi comunque un'operazione complessivamente vantaggiosa a livello economico per la Juventus. Il list è il quindicesimo in Premier League con 18 punti. Ora la Juventus pure in questo momento in Serie A non naviga nelle parti alte della classifica, ma sappiamo il motivo. Si parla di comunque sentenze, nemmeno definitive. Però pensare che il nostro campionato di Serie A sia così bloccato, così bloccato negli acquisti per la sessione invernale, anche la squadra campione d'Italia in carica non riesce ad affondare il colpo per Zagnolo che è un giocatore in uscita da parte della Roma e che pure andrebbe via a condizioni abbastanza vantaggiose a livello economico, non riesce ad affondare. Perché questi sono i soldi che ha a disposizione del Milan, la Roma magari crede qualcosina di più. Premier League, una squadra che ha fatto 18 punti, può permettersi un'operazione del genere. Un giocatore come McKennie, che comunque ha uno status importante, non è un fenomeno, ma nemmeno uno scarsone. McKennie secondo me è stato un giocatore che la Juve ha sfruttato non benissimo nei due anni e mezzo di permanenza a Torino, perché per quanto mi riguarda è un giocatore con tanti gol potenziali nelle gambe, con delle caratteristiche ben definite da centrocampista, da mezzala, di inserimento, che può veramente arrivare a fare male alle retroguardie avversarie e in più di un'occasione l'abbiamo sfruttato male, come esterno, finto esterno, sia con Allegri sia con Pirlo. Secondo me McKennie non è un giocatore scarso, ma è un giocatore che va ceduto, che è giusto cedere, proprio per questa nuova politica della Juventus di autofinanziamento, di sostenersi con gli acquisti. McKennie è stato acquistato, aveva vent'anni, circa, cos'è stato? Sì, 98, adesso devo fare due conti, però era un giocatore sui vent'anni, stato utilizzato per due stagioni e mezzo, viene ceduto a un campionato più ricco, sicuramente con delle ambizioni differenti all'interno della squadra, ma perché? Perché la Premier League ha un fascino. McKennie non sarebbe mai andato in una squadra di Serie A, e tra l'altro vediamo se effettivamente andrà, perché comunque Allegri dopo sottolinea c'è l'accordo tra Juventus e prossimo club, che dovrebbe essere il list, non è stato ufficializzato da Allegri, ma dovrebbe essere così. Manca ancora quindi l'accordo tra il giocatore e la squadra, però intanto McKennie è stato messo sul mercato e la Premier può permettersi di trarre fuori quei soldi. Io non credo che McKennie avrebbe nemmeno mai preso in considerazione l'ipotesi di andare in una squadra con 18 punti in Serie A, 18 punti conquistati sul campo. E deve far riflettere ancora, qualcuno mi dice è inutile sottolineare questa cosa, la differenza tra Serie A e Premier League. No, è utilissimo, è utilissimo invece sottolineare queste differenze. Perché? Perché il discorso delle disdette lo condivido in parte, non posso attuarlo, ma secondo me è una protesta logica e coerente. Ovvio non lo diventa quando vai a disdire per togliere i punti di penalizzazione da Juventus, ma far capire, far capire al sistema calcio in Italia che così non va bene, che ci sono delle cose che ai tifosi non vanno bene e che ci sono le squadre che non possono più fare come una volta, non ci sono soldi in Italia, non c'è possibilità, probabilmente non c'è nemmeno un futuro di livello per il calcio in Italia se non rimanere ancorati alla mediocrità del nostro campionato. Bisogna cambiare qualcosa, bisogna cambiare qualcosa. E questi sono gli esempi eclatanti che ti fanno capire che va cambiato qualcosa. Invece l'importante è mangiarci sopra al campionato, Lega Calcio, Federazione Italiana Gioco Calcio, andrà bene così, che cosa vi devo dire. Quindi McKennie, domani non convocato, molto probabilmente sarà in uscita dalla Juventus. Allegri dice che è sul mercato. Poi non significa che andrà al Leeds, magari non accetterà l'offerta, però sicuramente la Juve ha la volontà di cedere a McKennie. Domani inizialmente, difficilmente andremo sul 4-3-3, perché Chiese e Quadrado sono fuori. L'assetto attuale ci ha portato 38 punti in campionato. Quando saremo tutti, non sarà un problema cambiare sistema di gioco. Gli avevamo chiesto se domani poteva essere 4-3-3, Allegri dice no. Domani continueremo con la difesa a tre. Poi vedremo in futuro, perché sicuramente quando ci saranno tutti bisognerà cambiare qualcosa. Noi dobbiamo stare isolati da tutti. Dobbiamo giocare e vincere le partite. Dobbiamo concentrarci sul nostro percorso, comprese le ultime due partite dove c'è stato solo un punto. Allegri dice attenzione, non va mica bene questa roba qui, dobbiamo migliorarla. Indipendentemente dalle problematiche esterne, che a noi non devono importare, serve solo migliorare la nostra classifica di 38 punti. Abbiamo un giro di ritorno con 19 partite. Da domani serve fare più punti possibili. Domani è una partita difficile. Ora Monza sta facendo bene. Allegri sta isolando la squadra. La sta prendendo, la sta rinchiudendo in una bolla. Noi sul campo abbiamo fatto 38 punti. A noi questo deve importare. Non guardare la classifica. Guardiamo il fatto che ne abbiamo fatti 38. Perché noi, che siamo le persone inerenti al campo, solo di questo dobbiamo preoccuparci. Abbiamo 38 punti. Domani dobbiamo vincere. Le ultime due partite non le abbiamo vinte. Dobbiamo fare punti. Dobbiamo migliorare la classifica. Un martello pneumatico che va a battere sui tasti giusti in questo momento complicato. Sul mercato non ci saranno rinforzi. Se dovesse partire McKennie abbiamo Quadrado, De Sciglio e Sule che possano giocare lì. Nel caso cambieremo l'assetto. L'importante è aver recuperato quasi tutti i giocatori. E quindi viene da sé dire che se non c'è Chiesa, non c'è Quadrado, non c'è McKennie, uno tra De Sciglio e Sule sarà il titolare. Però poi Allegri dice stanno bene Pogba e Vlaovic. Hanno fatto buon allenamento e due test. Vlaovic è un po' più in forma rispetto a Pol che negli ultimi giorni però ha ripreso bene la forma. Quando uno è convocato è disponibile per giocare. Ovviamente non avranno 60 minuti nelle gambe ma dire tanto 30. E qui De Sciglio non viene preso in considerazione. Ma Allegri ha detto è disponibile, quindi è convocato, quindi può giocare. Quindi quanti minuti nelle gambe ha De Sciglio? Vediamo. Vediamo. perché sembra di capire che De Sciglio potrà partire titolare domani. Vediamo se sarà così oppure no o se ci sarà Sule perché questi sono i giocatori indicati da Allegri o se ci sarà la sorpresa Barbieri chissà che non è nemmeno stato citato. E Allegri ancora una volta dice noi sul campo abbiamo fatto 38 punti se no viene sminuito tutto e perdi delle certezze. Guardi la classifica e pensi abbiamo 23 punti quindi l'Eventus è una squadra scarsa? No. Abbiamo fatto 38 punti sul campo. Apre chi due parentesi. 40. E dobbiamo lavorare su quella classifica lì. Poi la società lavora per difenderci. Magari quei 15 punti poi ce li ridaranno. Noi dobbiamo difenderci sul campo. Anzi attaccare perché ci servono punti. Prendi questa frase ed è perfetta. L'appendi. Sarebbe davvero da appendere. Perché questo è il messaggio che Allegri deve passare alla squadra. noi abbiamo fatto 38 punti andiamo avanti così. Non siamo scarsi. Non siamo lì perché siamo scarsi. Noi 38 punti li abbiamo fatti. Dobbiamo migliorare la classifica. E anzi non dobbiamo difenderci dobbiamo attaccare perché in questo momento dobbiamo anche recuperare dei punti. Allegri poi ritorna su questo concetto successivamente. Paredes sta bene. Ha fatto bene in Coppa con il Monza. Domani può giocare anche perché ora avremo una partita ogni tre giorni. E poi Allegri sottolinea McKennie ha un accordo con la società è un giocatore sul mercato McKennie poi vedremo se lui troverà l'accordo con il Leeds. Il mio pensiero serve a poco perché gli chiedono ma questo è un campionato falsato? Allegri ancora martello pneumatico dice i ragazzi lo sanno dobbiamo essere più concentrati di prima serve uno sforzo maggiore non è semplice ma dobbiamo renderlo semplice i tifosi domani dovranno darci ancora di più rispetto all'Atalanta serve compattarsi molto di più per essere un blocco granitico non solo campionato ma anche Coppa Italia ed Europa League adoro letteralmente adoro quando Allegri mi parla dei tifosi adoro perché la figura di Allegri è sempre stata un po' particolare Massimo un salutino così però non si è mai creata quella fusione come magari c'era stata con Antonio Conte dove amava buttarsi anche in mezzo alla tifoseria Allegri non è uno così infatti vederlo che esulta sul 3-3 con l'Atalanta in quel modo che mi dà la dimostrazione che è umano pure lui che ha quei sentimenti lì sentirlo andare nel post partita con delle frasi pungenti finalmente finalmente sta venendo fuori questo lato che in Allegri non avevo quasi mai visto quasi mai visto in tanti anni addirittura mi viene in mente completa contrapposizione all'esultanza di Allegri con il 3-3 quando facciamo il gol di Guain a San Siro che di Bale e Guain vanno a esultare sotto la curva Allegri li prende non è finita la partita stiamo qui perché lì era un'altra roba dovevi vincere il campionato mancava poco era un'altra Juve era un altro discorso adesso invece si sente che c'è bisogno di quell'affetto di quell'affetto che magari non sempre c'è quindi quando Allegri mi parla dei tifosi in questo momento quando Allegri mi esulta in questo momento quando Allegri mi protegge la squadra me la rinchiude in una bolla in questo momento io adoro queste cose qui perché questo è quello che serve anche perché in questo momento non stiamo parlando di calcio e loro devono fare calcio e loro devono rimanere concentrati sul calcio e quando ascolti la conferenza ti rendi conto che comunque domani giochi una partita di calcio e non c'è solo lo schifo che stiamo vivendo e respirando in questi giorni quindi veramente perfetto poi c'è una frase che non ho capito su una domanda un po' così di Nerozzi Allegri dice voi pensate che in tutti questi assenti potessimo fare 38 punti diciamo che è stato un giorno in un'andata bello con tanti punti e tanti giovani messi in evidenza che sono diventati da prima squadra e potenziali titolari e i titolari a chiacchiere siamo bravi tutti quelli che rientrano ora hanno ancora più responsabilità di prima perché devono dimostrare di poter fare più punti di quelli che hanno giocato in precedenza poi dice c'è una partita ogni tre giorni serve gestire energie e cambi dentro la partita dipende dal lavoro di gruppo dalla voglia di fare qualcosa di importante e straordinario con un bel campionato un bel girone di ritorno e oltre che arrivare nelle finali delle due coppe perché non dimentichiamoci la Juve si può giocare dei trofei uno un po' più facile come la Coppa Italia uno un po' più complicato come l'Europa League ma nulla ci vieta di crederci fino in fondo fino alla fine fino alla fine e Allegri va a puntare ancora il dito lì in mezzo alla piega e dice oh nonostante tutto possiamo fare qualcosa di straordinario rimanere nella storia rimanere lì questo è quello che deve fare Allegri in questo momento questi sono i tasti che deve toccare Allegri queste sono le frasi che deve dire Allegri perfetto perfetto e poi ancora una volta parla di assetto tattico che dice no domani ancora difesa 3 poi vedremo in futuro e con in sottofondo Ragù dentro la lettiera vi lascio sperando che non vi abbia disturbato troppo e voglio sapere anche un po' da parte vostra come avete vissuto e compreso quali sono state le vostre sensazioni ascoltando questa conferenza stampa di Allegri per me super super promosso grazie a tutti